La città ducale ospita il derby della nona giornata del campionato di seconda categoria, girone F fra il Camerino ed il Calderola, si gioca allo stadio universitario Livio Luzzi. Le squadre stanno scendendo in campo agli ordini dell'arbitro signor Maslucan, di origine peruviana ma della sezione di Macerata. L'undici scelto dalla capolista Calderola con 22 punti è quello di Frascarelli, Cecchetti Innamorati, Minucci, Buldorini, Luciani, Frapiselli, Pesaresi, Maccari, Nerpiti e Scarpeccio, Tentella in panchina, Porta Tiberi, Corradini, Bignos, Montecchi, Bianchini, Capenti, Gentili. Rispondono i padroni di casa guidati da mister Giorgio Micarelli con Giri, Domenici, Bevilacqua, Onesini, Parrini, Gentilucci, Di Modica, Belfiore, Rossi, Remigi e Morico. In panchina Birocco, Michiorri, Moriconi, Palazzi, Persello, Cesari e Dichedic. Abbiamo già detto che l'arbitro è il signor Muslucan della sezione di Macerata. È una bella giornata di sole e c'è anche un discreto pubblico per questo derby molto atteso. Ma andiamo subito con il calcio d'inizio per i padroni di casa. in un'inedita maglia completamente verdi, anche Pantaloncini. Prima azione di gioco, dunque padroni di casa in possesso palla. Ma la prima azione pericolosa è per il camerino. Al settimo, Remigi, servito da Morico in aria di testa, non colpisce bene il pallone. Come vedete che va sul fondo. Siamo alla sedicesimo e Domenici a battere il calcio di punizione. Lungo spiovente per Rossi che rispondava verso Di Modica, ma nulla da fare a tiro non pericoloso. Sedicesimo ancora, scusate, diciassettesimo ancora un'azione, questa volta del Caldarola. Buldorini per Nerpiti, lancio per Minucci che serve scarpeccio. Viene anche ostacolato, cade in aria, chiede il calcio di rigore. L'arbitro dice che si può rialzare. Ventisettesimo del primo tempo, ospiti che battono un calcio di punizione con Nerpiti, li spinge di pugno Giri, la palla va verso Frapiselli che la mette giù, vede vicino Luciani, appoggia il pallone, il tiro però è altissimo e va direttamente sul fondo. Va alla rimessa con i piedi il numero uno del camerino Giri. Il pallone corto però ne approfitta Maccari che cerca di entrare in aria. È più svelto di lui il numero cinque Parrini che recupera e quindi sventa la minaccia per i padroni di casa. A questo punto siamo giunti al ventottesimo con il camerino. Palla in avanti per Di Modica che poi gira di destro, pallone alto sul fondo. Arriviamo al trentanovesimo, Nerpiti per Scappeccio, Maccari viene però anticipato con pallone che va direttamente sul fondo. Questa era l'ultima occasione pericolosa del primo tempo che finisce così. Squadra negli spogliatoi a prendere un tè caldo. Inizia la ripresa, calcio d'inizio affidato al Caldarola con Scappeccio e Maccari che danno il via all'azione. C'è un calcio di punizione, siamo al sessantunesimo. Nerpiti per Innamorati sull'out di sinistro, parla centro per Gentili che la perde. Poi la riconquista con il tiro di Nerpiti, ancora Scappeccio che va a riprendere il pallone. Cecchetti di prima va verso Frappiselli, siamo sotto il resto, parla ancora centro. Ma è ancora la difesa del camerino allontanare. Qui c'è il fallo di Cecchetti su il numero 10 del camerino Remigi. Poi arriva il numero 5 e parlo di Parrini che probabilmente colpisce il piede di Cecchetti che reagisce con un calcione. L'arbitro lo vede, richiama, c'è una mischia furibonda, richiama i giocatori a sé. L'arbitro dice di aver visto tutto e a questo punto estrae il cartellino giallo per il numero 5 Parrini e il cartellino rosso per il numero 2 del Caldarola Cecchetti che va anzitempo negli spogliatoi. Vedete la protesta, continua il cartellino rosso per il numero 2 del Caldarola e a quel punto Bevilacqua, anzi scusate è colui che viene ammonito, Bevilacqua che probabilmente ha preso l'ammunizione per protesta. Ancora ci sono dibattiti, ancora qualche spintone, gara che diventa nervosa. Si riparte con il calcio di punizione, Parrini a battere il calcio di punizione, lancio lungo con il destro, respinge Luciani, Maccari va sul pallone, cerca di proteggerlo, lancia Gentili che però viene steso da Gentilucci, stava andando in aria Gentili che era entrato nella ripresa al posto dell'infortunato per il Caldarola e parliamo del numero 4 Minucci, Gentili viene steso, l'arbitro ha visto tutto, parla un po', chiama se i giocatori, chiama a Gentili, si avvicina, parla con Gentili, si porta vicino anche a Gentilucci, lo richiama se ci parla e poi eccolo qua, il cartellino rosso, espulsione diretta per il numero 6 del camerino, Reo del Fallo appunto sull'attaccante del Caldarola. 64esimo dunque, Nerpiti calcia la punizione, il tiro, portiere spiazzato, pallone che sfiora l'incrocio dei pali e va sul fondo, siamo all'ottontunesimo, Morico per Onesini che calcia male, la palla va verso Remigi, fuori gioco ma si fa ipnotizzare dal portiere Frascarelli. Ora andiamo al novantunesimo, Luciani per Maccari che protegge il pallone a rimorchio, arriva a Pesaresi, di destro il tiro, para il portiere del camerino Remigi, arriva il triplice fischio finale, finisce 0-0, il squadro escono. Gli applausi.